in questi ultimi anni invece diciamo il posto del cuore quindi il centro diciamo del di carenno è il Malibu Mirko perché non sembra ma medita riunione di proloco soprattutto d'estate quindi dalla riunione di proloco soprattutto d'estate dove si va andiamo da Mirko a bere qualcosa allora tutti da Mirko sei lontano dal casino dal caos dai problemi legati alla pericolosità per i bambini strade robe pericolose e comunque secondo me è proprio un centro completo cioè dalla colazione alla cena puoi giocare a tutti gli sporchi che vuoi in un ambiente proprio bello legato nel centro proprio all'interno di una vallata nel verde senza rumori con la quiete che domina e tu entri come ha detto anche lei prima non c'è non è formale come posti anche con Mirko ma anche solo tra un tavolo e l'altro cioè si crea proprio quell'atmosfera proprio molto leggera che ti permette di proprio stare tranquillo rilassarti e goderti quell'oretta quelle due orette che può essere in giro e ho visto passare da tipo un inizio che la gente era un po' malfidente iniziava sì boh dopo si parla tanto per i bar è meglio quello là è meglio quello lì alla fine comunque legarsi creare un legame col bar con i gestori con i baristi che diventava tipo per tutti secondo me è una famiglia perché tipo il fine settimana ci ritroviamo tutti qua soprattutto d'inverno tutto il paese è il loro posto il punto d'appoggio mangiamo insieme viviamo insieme è tipo un punto dove c'è famiglia nessuno che fa casino tutti che si divertono soprattutto l'estate la perla di careno dove la gente si ritrova tutta qua per passare i pomeriggi essere felici far giocare i bambini e creare proprio unione il punto di forza che non è né a livello politico né calcistico né di nessun tipo religioso è proprio un posto libero tu vieni qua parli ridi scherzi senza avere una tendenza destra sinistra rosso verde sei proprio un posto libero e man mano proprio si è vista anche il crescendo di persone che hanno iniziato a venire soprattutto non solo che è riuscito una cosa secondo me importante a far uscire quelli di careno cioè prima anche il parco giochi secondo me non era così vissuto quando ero io piccola mentre adesso ci sono tante famiglie con i bambini che portano i bimbi al parco giochi e oltre poi al fatto lì anche soprattutto d'estate le persone che da fuori vengono per godersi una serata fresca careno anche a me piace veramente gestire sto posto perché si è lontano dal casino dalla strada e poi anche per chi lo frequenta a mio parere è proprio un posto che ti imprime tranquillità sembra di essere in vacanza sia da lunedì alla domenica soprattutto nei periodi estivi e poi anche per chi lo frequenta a mio parere è proprio un posto che ti imprime